Per celebrare il suo trentesimo anniversario, l'organizzazione Cori Calabria, presieduta dal maestro Gianfranco Cabareri, ha scelto Vibo Valencia per un raduno che ha rappresentato un forte momento di partecipazione e che ha avuto il suo clou con il concerto del coro giovanile italiano eseguito nel Duomo di Selle Luca, gremito da un pubblico entusiasta che ha applaudito l'esibizione culminando con una vera e propria standing ovation. L'organizzazione Cori Calabria, fondata nel 1993 con l'obiettivo di promuovere la musica corale e la cultura in Calabria, ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita e nell'affermazione della coralità nella regione. Grazie al costante impegno del maestro Cabareri e dei suoi collaboratori, l'organizzazione Cori Calabria ha contribuito a formare nuove generazioni di coristi e a diffondere la cultura, la professionalità e la passione per la musica corale tra i giovani calabresi. Per celebrare questo importante traguardo è stato organizzato un tour straordinario che ha portato il coro giovanile italiano diretto dal maestro Marco Berrini a Caranzaro, a Caolonia e a Vibo Valencia, la tappa più attesa, proprio quella nel Duomo di Santa Maria Maggiore e Selle Luca della città. Il coro giovanile è una delle formazioni corali più prestigiose e rappresentative d'Italia con 40 talentuosi musicisti dai 18 ai 28 anni. È stata una serata di grandi emozioni a conferma di quanto l'arte della musica corale abbia il potere di unire le persone, di esprimere suggestioni profonde e di celebrare la bellezza della vita. Quanto vissuto in occasione del trentesimo anniversario dell'organizzazione Cori Calabria ha rappresentato un evento straordinario che testimonia l'importanza della cultura e dell'arte nella nostra società e celebra il talento dei giovani musicisti italiani e soprattutto calabresi.